Si chiama Erika Michelle Charles, sarebbe stata arrestata in Florida per violenza sessuale. In confronti di una bimba di soli 6 anni di età, i sapati la risalirebbero alla fine del mese di agosto e inizio di settembre la teenager potrebbe essere accusata di avere abusato di più minorenni. 3 all'apparenza mentre si sta prendendo cura di loro. Le indagini sono avviate il 4 ottobre dopo che il dipartimento per i bimbi e la famiglia della Florida ha ricevuto un rapporto sugli abusi nei confronti di una bimba di soli 6 anni di età. Emma avrebbe mostrato alla sua vittima i diversi video porno probabilmente presenti all'interno del suo telefono urlare, ma avrebbe spogliata, avrebbe portata a compiere atti sessuali di tua collega. Di ogni investigatore risulterebbe che Charles avrebbe abusato sessualmente e quindi di una bambina in più occasioni diverse e vi sparate. La ragazza sotto pressione avrebbe confessato, gli inquirenti ipotizzano che potrebbero estreccire altre vittime e hanno diramato un appello affinché effettivamente chi abbia delle informazioni utili si faccia avanti e si proponga. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi fa, commentate. Un saluto caro dal vostro Leandro, narratore italiano.